Buonasera a tutti voi, sono Teodoro Borghi della Citroen Dalma, ci siamo già visti altre volte, sfortunatamente oggi non c'è il nostro responsabile Davide Castelnuovo che è lui che apre la trasmissione. Noi siamo appunto in Citroen Dalma a Solarium via Donizetti numero 3. Quest'oggi ci spostiamo subito su una novità particolare che è la C1, la nuova C1 in ogni caso un allestimento particolare che è l'Urban Ride. La nuova C1 la conosciamo già, comunque questo è un allestimento particolare, si chiama appunto Urban Ride. La particolarità è dovuta dai cerchi in lega color nero, con queste fasce che seguono appunto il parafango dell'autovettura, con l'interno che segue il colore della carrozzeria e la plancia di colore arancione. In particolare questa è cabrio, si chiama Airscape, con il tetto in tela di colore Sunrise Red. Molto bella come potete vedere, pensate che potreste utilizzare subito la vostra autovettura, in questo modo dando un piccolo acconto di apposito cauzionale di 500 euro, che poi vi verrà restituito quando finite l'utilizzo della vostra autovettura. Logicamente dovete pagare dei comodi canoni personalizzati in base alle vostre esigenze, la cosa interessante è che all'interno del canone avete tutto, avete l'RC auto, avete il furto incendio, avete la manutenzione dell'autovettura, perciò io utilizzo l'espressione zero pensieri, anzi scusatemi diciamo che un pensiero dovete averlo, cioè quello di poter mettere il carburante, è l'unica cosa che dovete fare, perciò noi vi aspettiamo numerosi in Citroën Dalma, abbiamo diverse disponibilità di colori, siamo, vi ricordo, il via Donizetti numero 3. Il discorso che facevamo prima sulla C1 si chiama appunto Free to Move, lo possiamo fare anche sulla nuova C3, è un'autovettura che conoscete già, o su tutta la gamma Citroën. Adesso io lascerei la parola al mio collega Cristian, che vi spiegherà il tutto. Buona serata a tutti. Grazie Teo, buonasera, un saluto anche da me. Io questa sera sono qui per presentarvi la nuova C4 Picasso, sia in versione 5 posti come quella che vedete qui, è in versione 7 posti, è una vettura disponibile in qualsiasi colorazione che voi vogliate, ne abbiamo tante a disposizione, quindi venite pure a chiedere, motorizzazione sia a benzina che a gasolio, e la vettura è completamente connessa anche lei, come il resto della bellissima gamma Citroën, che può tranquillamente portarvi ovunque, in qualsiasi momento, senza rinunciare a nulla. Questa è una vettura a 360 gradi, per tutte le piccole, medie e grandi famiglie, ed è disponibile veramente come la volete e quando la volete. Per questa cosa, normalmente, sia io, Cristian, che i miei colleghi, chiediamo a tutti quali siano le vostre esigenze. Non tutti, ma molti, ci rispondono che vogliono salire in vettura, accendere e partire. Quindi, venite a scegliere la vostra vettura della nuova gamma Citroën, e ci sono diverse modalità di pagamento di tutti i tipi, dal SimpliDrive alle nuove formule con un anticipo, con delle piccolissime rate. Potete scegliere come partire. Penserete soltanto a inserire il carburante nelle nuove gambe Citroën e andare fuori in ferie, dove volete voi. E poi, una rapida carrellata alla gamma, ricordandovi che abbiamo disponibile, in qualsiasi colore, in qualsiasi motorizzazione, la nuova C4 Cactus, che non solo è innovativa dal punto di vista estetico, ma anche apportate nuove tecnologie da provare su strada. Anche lei, modalità di pagamento, a vostro piacere, come volete voi. Passo la parola ai miei colleghi, di nuovo. Buonasera a tutti, sono Silvano Ferro, responsabile per le aziende di Citroën Dalma di Solaro. Voglio approfittare di questo angolo di trasmissione per raccontare qualcosa in più sulla sicurezza che potremmo abbinare al vostro uso quotidiano della vostra vettura. Partendo dal presupposto che il sistema che vado a presentare in questi pochi secondi si chiama Smart Drive ed è possibile abbinarlo a tutta la gamma di Citroën, voglio avvicinarlo maggiormente alla vettura della famiglia che è la C4 Picasso, Gran Picasso Space Tourer. È un sistema che permette di sapere esattamente lo stato d'usura della vettura, la manutenzione, piuttosto che qualsiasi spia che si accende viene comunicata alla nostra centrale operativa tutti i giorni, sette giorni su sette. Anche in caso di soccorso potete essere geolocalizzati e quindi potremmo inviarvi gli aiuti, quindi i carattrezzi, l'ambulanza. Inoltre, la vettura può essere controllata a distanza attraverso il vostro smartphone. Questo a cosa serve? Serve per avere più tranquillità anche quando, ad esempio, se fosse una vettura utilitaria data in dotazione al vostro figlio o vostra figlia, nelle uscite serali o giornaliere. Pensateci perché è una cosa molto, molto interessante. Quindi, per tutti i dettagli, quando verrete a trovarci, che siamo seduti tranquilli in fase di preventivo o di valutazione della vostra, come si può dire, vettura, richiedeteci questo servizio perché siamo ben lieti di mettervi a disposizione una consulenza a 360 gradi studiata appositamente per la vostra sicurezza che è molto importante. Eccoci qui che continuiamo con i veicoli commerciali e lo stock disponibile presso il nostro business center Dalma. Dico business center perché vi ricordo che siamo una concessionaria specializzata nella vendita dei veicoli commerciali. Mi ricollego a quello che ci siamo detti poco fa, lo smart drive, che serve anche qui per tracciare il vostro veicolo in fase di consegna. E che consegne fate? Ad esempio lo 0 più 5, veicoli isotermici in pronta consegna. Partiamo subito con un veicolo disponibile di passo medio, tetto medio, isotermico, a 0 più 5 gradi adatto a latticini piuttosto che al fresco, insomma, sempre collegabile alla vostra rete elettrica 220 volt. Quindi di questa macchina possiamo fare un prezzo speciale di prima estate, 25.900 euro. Oppure una piccolissima rata da 401 euro al mese. Insieme a questo abbiamo disponibile una macchina un pelino più grande che sviluppa un passo lungo tetto medio, quindi un L3 H2 isotermico strada rete frigo incassato nel tetto con la nicchia a 0,5 gradi. Anche qui è una macchina interessante perché la sviluppiamo a 26.800 euro oppure 458 euro al mese. A questi servizi di leasing possiamo aggiungere anche le manutenzioni. Abbiamo disponibile sempre su un autotelai una cella a meno 20 per chi fa il surgelato, diciamo così, una macchina da 30.900 euro o 476 euro al mese. Anche questo è un ottimo punto di partenza. Sempre strada rete. E tra l'altro questa è una macchina che sviluppa 3.500 mm di lunghezza, quindi 3,50 m. Dico solo a lunghezza, ma venite a trovarci che ve le faccio vedere personalmente e così potete anche eventualmente provarle. Abbiamo anche un Jumpy Medio, è una macchina da 4,95 m per il trasporto veloce in città sempre a temperatura controllata 0,5. Le colleghiamo sempre alla rete della corrente della vostra azienda a 220 volt. Questa è una macchina pronta, disponibile a 24.500 euro oppure un leasing a 377 euro al mese. Interessanti questi canoni perché possono essere sviluppati con manutenzioni, furto, incendio, casco, RC auto, gomme e servizio Smart Drive che vi diciamo noi quando dovete fare il tagliando o portarci in mezzo in assistenza perché sarete collegati alla nostra centrale operativa. Poi passiamo agli allestiti. Gli allestiti per il trasporto dei pallet. Ad esempio un 6 pallet quindi anche 7, 4,30 m di cassone quindi un box in alluminio su una macchina disponibile pronta a 20.800 euro. Poi possiamo aggiungere un'altra macchina interessante che avete visto più volte nelle nostre dirette televisive qui con la Rosi è la sponda caricatrice. Questa sponda porta 750 kg al fermaroll quando viene mossa viene mossa a bordo macchina oppure sopra la sponda con i piedini quindi di conseguenza potete utilizzarla nel modo normale. Le macchine sono tutte disponibili in questo momento in cui facciamo la trasmissione quindi non basta basta solo che ci telefonate al numero che vedete in sovrappressione oppure un messaggio via WhatsApp chiedete e noi vi manderemo avanti tutte le informazioni di cui necessitate. colgo l'occasione per ricordarvi che questo business center ha la disponibilità di avere uno stock di 150 veicoli commerciali sempre disponibili a terra vuol dire che nel momento in cui decidiamo facciamo subito la messa a disposizione del veicolo tempo di fare le targhe e voi guidate la vostra macchina e non perdete nessun affare quindi di conseguenza siete sempre attivi sul mezzo. Ecco che poi continuerei a raccontarvi ancora qualcosina sul noleggio il noleggio alle aziende è interessante perché comunque permette a voi imprenditori di mantenere i costi fissi al giorno potete calcolare esattamente quanto vi costa una macchina io dico sempre in fase di primo colloquio con i vostri responsabili degli acquisti o direttamente voi titolari che potete pensare già di spendere dai 15 ai 25 euro al giorno dipende dalla messa a disposizione della vettura che utilizziamo sto dicendo delle cose importanti sono costi che voi potete governare comodamente non dovete avere il pensiero di una macchina che si usura continuamente dovete avere il pensiero di far funzionare il vostro business e il nostro mezzo deve aiutarvi a sostenerlo quindi direi di proseguire con il nostro noleggio interno dalma due veicoli disponibili che fanno o 6 metri cubi oppure 12 metri cubi possiamo utilizzare giornalmente mensilmente ci chiedete un'offerta partiamo tenete conto da 49 euro al giorno quindi poca cosa per non fermare il vostro lavoro è importante sapere che avete un partner su cui appoggiare le vostre necessità è la parte principale di un servizio che l'imprenditore oggi va cercando per mantenere adeguato il servizio ai propri clienti e quindi anche dare un'immagine efficiente della propria azienda eccoci qui con i saluti finali ringrazio ancora per l'attenzione che ci avete dedicato voglio comunque presentarvi i miei due colleghi che non avete visto in questo blocco diciamo così c'è Vito Vito si occupa di vetture nuove e usate e bravissimo lui per le C4 Cactus chiedetegliele che vi fa dei prezzi pazzeschi e vi ricordo che lui è stato quello che ha ideato la Smart Drive bravo Vito invece prezioso Giovanni lui è responsabile dei veicoli usati con lui potete veramente fare delle trattative particolarissime anche per il ritiro del vostro usato che noi vi ricordiamo potremmo comprare senza dovervi vendere nulla chiamateci grazie ancora vi auguro buona serata e a prestissimo ciao ciao grazie a tutti